L'autovelox installato in prossimità della frazione Pattano di Vallo della Lucania è stato coperto. Insorge l'ex consigliere comunale Pietro Miraldi e attivista del Movimento 5 Stelle. Ora che è finalmente stato coperto l'involucro ho immediatamente inviato una nota alla Corte dei Conti affinché accerti se vi siano responsabilità e sperpero di danaro pubblico. Il dispositivo installato lungo la strada statale 18 C-Lentana tra gli svincoli di Vallo e Pattano sarebbe risultato pericoloso.